Vi faccio una foto, va? Eccoci, mentre Maria Giulia Dondero ci fa una foto, noi dovremmo essere ufficialmente in diretta. Ciao Maria Giulia, benvenuta. Ciao ragazzi. Benvenuta a Semioboomer, siamo qui con l'episodio numero N perché non li contiamo più, ormai sono tanti. Siamo molto contenti di averti Maria Giulia, adesso presenteremo il libro, presenteremo te, insomma. Ma io vorrei dire una cosa per il pubblico, che intanto, insomma, così ti diamo tempo anche di arrivare. Io ho anche un ricordo molto affettuoso di Maria Giulia perché ho quell'effetto un po' di imprinting, anzi di de-printing, perché l'ultima conferenza dal vivo che ho fatto uscendo dall'Italia, effettivamente l'ho fatta con Maria Giulia Dondero, era a Varsavia l'anno scorso, mia cara. Allora, non so, forse tu ti sei spostata ancora, hai fatto altre cose dal vivo, ma credo che sia stato l'ultimo evento dal vivo fuori dall'Italia che ho fatto. Quindi, insomma, rimani a livello di immagine mentale anche quel tipo di ricordo lì. Ma comunque... Legata al viaggiare. Legata al viaggio, legata alle cose belle, legata al fatto che siamo arrivati in aeroporto per il rotto della cuffia quel giorno, perché c'era una grande tempesta di neve a Varsavia. Eravamo in macchina assieme. Comunque, tutto ciò è servito anche per unire già i nostri 26 spettatori che vanno aumentando. Benvenute, benvenuti a tutti. Siamo qui oggi a presentare questo volume, The Language of Images, The Forms and the Forces, edito da Springer, che però in realtà è un volume trilingue, nel senso che ne esistono altre due versioni, una in francese e un'altra in italiano, adesso Gabriele poi ci... Ecco, le vediamo. Le Langages de l'Image, o qualcosa del genere, scusate il mio francese, e i linguaggi dell'immagine per Mel Temi. Io mi sono letto l'edizione in inglese, ed è un libro di cui andremo a discutere oggi. Gabriele, direi un libro importantissimo, un libro di vera teoria semiotica, cioè oggi per i nostri ascoltatori si farà un po' di semiotica cosiddetta hardcore, come ci piace chiamarla, ed è un libro che, pur in un numero di pagine, diciamo, non elevatissimo, pone delle questioni, cioè si interroga su questioni assai spinose, non assai spinozza, assai spinose, e cioè le questioni relative... Anche Spinozza a un certo punto, secondo me, poi te lo dico. Arriveremo anche a Spinozza, ma insomma, con ordine. È un libro che si divide sostanzialmente in un'introduzione e poi in tre capitoli che hanno a che fare sui modi di enunciazione dell'immagine, se vogliamo. Almeno così nella prima parte, cioè la vecchia storia, ma mai del tutto risolta, sulla possibilità di una semiotica visiva a fondazione enunciativa, se vogliamo, no? Quindi il problema del glottocentrismo, come superare l'impostazione bambemistiana, nell'ottica di sistemi sendici che non sono strettamente linguistici o verbali, e soprattutto per quanto riguarda le immagini, esiste la possibilità di parlare di una langhe, di una parola visiva? Come possiamo pensare alle istanze dell'osservatore, dell'enunciatore, dell'enunciatario, nella sede di immagini, anzitutto di immagini statiche, ci dice Dondero, ma in maniera estesa poi anche verso altre immagini. Insomma, questioni molto importanti, che vengono non soltanto trattate da un punto di vista teoretico, ma poi viene anche proposta una soluzione, cioè si fa effettivamente analisi in questo volume. Si parte dal Tintoretto, Susanna in the Elders, che credo in italiano sia Susanna ai Vecchioni, una cosa del genere la traduzione. Poi si va in un capitolo molto bello relativo al ritratto, quindi relativo a immagini molto specifiche, e qui si nota come ci siano alcune coordinate specifiche, teoriche di Dondero, cioè il rifacimento sostanzialmente a Fontanì, ma non sono Bordron, Pierluigi Basso Fossali, cioè alcuni riferimenti concettuali molto specifici, e il capitolo sul ritratto, devo dire, che è molto bello, perché applica alcuni strumenti della segnotica tensiva ad alcuni oggetti specifici, ad esempio, insomma, c'è una serie di fotografie chiamate soliloqui, che viene analizzata, così come fotografie di vari autori, e c'è questa idea dell'immagine più o meno refrattaria, allo sguardo, il modo in cui gli sguardi si intersecano nelle immagini, e così via, e poi arriva il grande tema della metavisualità, cioè in che modo noi possiamo parlare di metalinguaggio, se non addirittura di metaland, all'interno del campo delle immagini, ah, ecco, dimenticavo, altro riferimento fondamentale, stoichita, naturalmente, e qui il grande tema delle immagini scientifiche da un lato, e quindi la cosa bella di questo volume che mette assieme, parte dalle immagini artistiche, parte dall'iconicità dei dipinti, va verso i ritratti, va sulla fotografia, e arriva addirittura a parlarci di immagini di telescopi, o di immagini biologiche al microscopio, che sono tutti in qualche modo immagini di immagini, o immagini che si sovrappongono, e così via, fino ad affrontare le immagini di immagini di Manovic, quindi tutto il lavoro fatto dalla cultural analytics di Manovic, di cui abbiamo già parlato. Insomma, il libro ha un percorso molto interessante, molto ricco, sono contento di parlarne oggi, ma mi sono dilungato forse un po' più del solito, ma secondo me era necessario, perché il libro è importante, lascio però anche la parola a Gabriele. Allora, noi adesso ovviamente faremo parlare Maria Giulia, perché abbiamo un po' questa tendenza a fare i cappelletti lunghi, ma doverosi, per dare un po' di contesto. Io sono personalmente super contento di parlare oggi di questo libro qui, che secondo me, non lo dico per piageria, già ho fatto tutti i disclaimer a camera e spente del caso, però secondo me è uno dei libri più importanti di teoria semiotica degli ultimi tempi, che tratta una serie di questioni fondamentali, lo fa in maniera molto intelligente, molto raffinata, molto chiara, insomma è veramente un libro importante con cui è necessario confrontarsi, e che, insomma, farà testo. Io sono particolarmente entusiasta, insomma, di alcuni passaggi specifici sull'enunciazione sul plastico, ma, come diceva Maria Giulia e Bruno, io oggi cercherò di non essere egoista, quindi di non traghettare le cose sui miei interessi specifici, ma di fare un buon servizio per il libro, perché lo merita. E io introduco brevemente Maria Giulia, perché in semiotica la conosciamo tutti, ma magari qualcuno degli spettatori di Lexia, per fortuna sua, non è necessariamente un semiologo, e quindi diamo due coordinate, poi iniziamo a dialogare con lei, io non vedo l'ora. Allora, Maria Giulia insegna all'Università di Liegi, ed è maître de recherche al Fondo Nazionale della Ricerca Scientifica in Belgio. Come si intuisce dal testo che presentiamo oggi, è una specialista assoluta in semiotica visiva, in particolare si è tanto occupata di semiotica della fotografia, si è laureata a Bologna con Paolo Fabri, si è addottorata all'Ulm con Ugo Volli, ha pubblicato, vabbè, una quantità di roba inenumerabile, cito giusto un paio di libri, perché lo dico anche a favore del nostro pubblico, ha setato di testi da poter leggere online, gratis, in maniera pulita, diciamo, e quindi cito fotografare il sacro Indagini semiotiche a Meltemi 2007, che trovate sul sito dell'AIS, e The Semiotic Challenge of Scientific Images del 2014, scritto con Jacques Fontaniglie, che trovate in chiaro sull'Accademia di Maria Giulia. Quindi, questo micro cappelletto, molto succinto, ma che insomma fa capire alcuni punti importanti, è funzionale, la prima domanda, molto rilassata, poi entriamo nella semiotica arcor, come diceva Bruno. Cioè, io penso che questo libro sia importante perché propone in maniera programmatica un confronto tra alcuni punti focali che, secondo me, ha senso che ossessionino la comunità semiotica oggi, cioè il confronto tra la storia e il momento in cui ci troviamo adesso, tra quello che abbiamo costruito come teoria da Grey Mass in avanti, e il fatto che questa teoria dobbiamo farla funzionare, forse adattare, rispetto a tutta una serie di oggetti che sono, per usare un termine un po' banale, però tecnologici, se non solo tecnologicamente mediati, quindi appunto il confronto con i dati, i corpore, eccetera, e appunto questi due grandi totem teorici che sono il plastico, l'enunciazione attorno a cui ruota tutto. Tra l'altro faccio notare che il libro per Springer esce nella collana diretta da Alessandro Sarti, che è forse il più deleusiano dei matematici esistenti sulla faccia della Terra, e non è un caso che Claudio Palucci, che abbiamo ospitato con persona, ringrazi tantissimo Maria Giulia, dicendo che senza di lei il suo libro sull'enunciazione non sarebbe uscito, e guarda caso anche il libro di Palucci ha forte, che cova sotto la brace, una vocazione deleusiana. Quindi forse c'è una sorta di ritorsione, un Deleuzean Tarn sotterraneo, che cova sotto la semiotica, ma quindi, tutto questo percorso bellissimo, Maria Giulia, da fotografare il sacro, quindi da un'analisi semiotica a cavallo tra, come dire, l'estetica, la semiotica del visivo e tutti gli strumenti che ha prodotto, fino a questo libro qui, che è molto avanzato, è molto contemporaneo, arriviamo fino appunto a Manovic, che abbiamo ospitato, e che quando ci ha visto la prima volta ci ha detto, sembrate due terroristi, questo lo volevo dire, per il nostro look, un po' settantasettino, ecco, com'è che da fotografare il sacro, quindi da una semiotica visiva, diciamo, sicuramente up to date, aggiornatissima, ma comunque tradizionale, direi fieramente tradizionale, siamo arrivati alle colonne d'Ercole della ricerca semiotica oggi, quindi appunto, il confronto con altre discipline, il confronto con il problema delle immagini digitali, quindi dici un po' che cosa hai fatto in questi anni per arrivare fino a The Languages, cioè in italiano è i linguaggi dell'immagine, in inglese è il linguaggio delle immagini, ma va bene. Allora, prima di tutto, tantissime grazie a tutti e due, ha fatto un lavoro fantastico per tutti, lo dico veramente per tutte le presentazioni che ho ascoltato, ne ho ascoltate diverse, sia in diretta, sia indifferita, e devo dire che veramente, ha fatto un lavoro straordinario, utilissimo per tutti, semiotici, non semiotici, di tutta l'età. Allora, la domanda non è semplice, però diciamo che sono andata di insoddisfazione in insoddisfazione, tutto sommato, nel mio percorso di ricerca, insoddisfazione rispetto alle cose che avevo già fatto, insoddisfazione rispetto a uno status quo, un certo status quo della semiotica, insoddisfazione rispetto anche a un certo successo dei visual studies, che sono ovviamente importantissimi per aprire le immagini non artistiche, per aprire una desacralizzazione anche dei capolavori, dell'estetica delle immagini, aprire la politica delle immagini, eccetera, però certo restano, diciamo, molto vaghi sulla questione composizione dell'immagine, cosa facciamo dell'immagine, come costituiamo un corpus. Ecco, quindi sicuramente, non voglio dilungarmi adesso sulle questioni Manovic, perché forse Manovic dati, eccetera, perché forse le tratteremo dopo, non so, però diciamo che sicuramente una delle questioni che mi hanno più lavorato, non voglio dire che ho risolto, ma che mi hanno più lavorato da fotografare il sacro, ad oggi, è effettivamente la questione del corpus, cioè Manovic offre un piccolo trampolino, diciamo, per problematizzare il problema della collezione, del corpus, dell'intertesto, non solo lui ovviamente, perché io, certo, riparto molto da lui, perché per me lui fa un lavoro importantissimo sul metavisivo, cioè sulla visualizzazione delle immagini, che sono visualizzazioni analitiche, ovviamente, analitiche perché analisi vuol dire ripartizione, separazione, raggruppamenti, eccetera, eccetera, e lui attraverso queste visualizzazioni fa delle vere analisi raggruppando le immagini che si assomigliano e direi attraverso uno spirito tensivo allontana questi gruppi da altri gruppi secondo le differenze iconografiche, plastiche, eccetera, che allontanano un gruppo dall'altro, insomma. Quindi, ovviamente, lui fa un lavoro importante, poi ci sono molti altri, molti altri studiosi, io li cito questi altri studiosi, alcuni degli altri studiosi, li cito solo qui, quando parlo di Fossillon e Warburg, parlo anche di altri, di altre persone che si occupano di come analizzare le collezioni, per esempio Replica, che è un progetto svizzero, di cui parlo rapidamente e lo metto in relazione alle visualizzazioni anche di Warburg. Lì c'è ancora un altro modo di lavorare sulle analisi di larghi corpus, ma in generale quello che è importante è che questi corpus si lavorano non per metadatti, ma che si lavorano per descrittori visivi. e in un certo senso questa questione dei descrittori visivi chiude il libro, però si riallaccia a tutto il problema anche di cui parlava Bruno all'inizio, cioè questo bisogno di lavorare per l'autonomia del linguaggio visivo, cioè che il linguaggio visivo sia riconosciuto infatti come un linguaggio che sa parlare di se stesso e sa parlare degli altri linguaggi. Questo è chiaro che un'idea sulla quale Paolo Fabri ha tanto insistito a lezione quando eravamo sui studenti e poi ovviamente anche nella grande svolta semiotica e ovviamente tutto questo percorso comunque mira a dimostrare che il linguaggio visivo è sufficiente a se stesso per quello che poi c'è tutta la parte sul metatesto metalinguaggio metadiscorso e metalingua ma adesso non voglio non voglio insistere su queste distinzioni magari un po' un po' rudi così all'inizio quindi diciamo la questione del corpus quindi che in un certo senso con mano vi ci trovo una risposta ovviamente una risposta che è una risposta per analisi del piano dell'espressione è chiaro che questo non basta è molto criticato lo sapete bene lui da tanti perché non saprebbe fare un'analisi del contenuto ma quello che già lui ci offre con i suoi raggruppamenti di immagini e con i suoi distanziamenti di immagini è già molto molto utile per fare poi delle ipotesi sui generi sulle tematiche sul contenuto eccetera eccetera quindi questione del corpus per rispondervi su che cosa è successo da fotografare il sacro ad oggi un'altra questione che mi ha sempre importato e che finalmente c'è in questo libro è la questione dell'immagine fissa che però mette in scena mostra un movimento una narrazione una storia uno sviluppo eccetera questo per me è importante da sempre però è solo in questo libro che affronto la cosa diciamo di petto perché in un certo senso sì ho sempre sentito ho sempre sentito questa questa artificiosità della distanzione tra arti dello spazio e arti del tempo e quindi chiaramente ho tentato di lavorare perché perché l'immagine si riconoscesse anche come arte del tempo attraverso ovviamente delle analisi aspettuali come avete visto il ritratto attraverso l'aspettualità la temporalità del ritratto il ritratto verso il passato il ritratto verso il futuro il ritratto al presente eccetera eccetera per adesso mi fermo qui va bene adesso stai tranquilla non ti fermerai qui perché insomma ne hai detto già tante appunto come dire leggendo questo libro si vede lo sforzo e secondo me anche il successo di tentare di fare semiotica cercando proprio di andare lì dove i problemi della semiotica erano più evidenti cioè la teoria dell'enunciazione è una roba su cui ci interroghiamo di nuovo molto negli ultimi anni anche se per un po' di tempo la mia impressione era che sia stata in qualche modo abbandonata ma ultimamente ricorre c'è nello zeitgeist semiotico contemporaneo questa cosa dell'enunciazione che è una roba che ad esempio tu riprendi addirittura citando Metz quindi il problema del lo dicevo prima il problema del grottocentrismo come in qualche modo superare questa cosa e lo fai ponendoti anche delle domande molto interessanti ad esempio noi siamo abbastanza consci del fatto che con il linguaggio verbale noi possiamo asserire ma anche negare mentre abbiamo o almeno avevamo prima di leggere il tuo libro l'idea che le immagini potessero esclusivamente affermare e invece tu consideri la possibilità di immagini che neghino ora questa secondo me è già una domanda interessante da porti cioè com'è possibile che un'immagine possa negare è una domanda a cui io so la risposta perché ho letto il libro ma siccome il libro è molto recente e immagino che molti di coloro che ci ascoltano non l'abbiano ancora letto è interessante chiederti che cosa intendi tu con immagini che non soltanto dicono qualcosa di positivo quindi asseriscono ma anche negano guarda anche la questione della negazione viene dall'enunciazione perché ovviamente sì l'immagine afferma qualcosa e poi ovviamente ogni immagine ha iscritta in sé anche la presa di responsabilità se così vogliamo dire dell'enunciatore che può essere una presa di responsabilità falsa menzognera ovviamente lo sappiamo però l'idea insomma che comunque ogni immagine sia anche un commento su se stessa sempre anche quando si tratta di mettere in scena un semplice volto rispetto a uno sfondo più o meno più o meno neutro più o meno stabile più o meno sfoccato eccetera e quindi dalla teoria possiamo inferire che se l'immagine si rappresenta qualcosa insomma riprendo le parole di Maran che sono le più dirette le più utili se l'immagine rappresenta qualcosa l'immagine anche si presenta si parla della presentazione e della rappresentazione quindi dei due livelli transitivo intransitivo dell'immagine è chiaro che l'immagine può dichiararsi come esposta o aperta all'osservatore disponibile e può anche costruire dentro di sé con i suoi propri strumenti degli ostacoli al vedere e questa è una questione interessantissima e questa è una questione voglio dire che apre che apre che apre ovviamente tutti i problemi di conflitti all'interno del visivo anche quest'idea del conflitto l'abbiamo detto prima a telecamera spenta viene molto dal libro di Jacques Fontanis dell'89 Les espaces subjectifs Introduction semiotique dell'observateur che discute subito mette subito mette subito in valore la questione di l'immagine non è mai irenica l'enunciatore e l'enunciatario sono in conflitto sono prima di tutto sempre due figure in interazione cioè uno costruisce l'altro ovviamente e perché si tratta comunque sempre di intersoggettività e sempre di 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 scambio insomma ogni immagine mette mette in scena una una proposta di comunicazione una proposta di 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 sguardo di intersoggettività di focalizzazione dell'attenzione eccetera e quindi penso che questa parte del libro di Fontanini sia passata forse un po' in sordina negli sviluppi della semiotica visiva degli anni 90 perché io trovo che questa questione della conflittualità tra annunciatore annunciatario per dirla con vecchi ma anche ovviamente nel libro si tratta anche di conflitti luministici per esempio ovviamente un luogo ci può essere un luogo che nasconde nell'immagine un luogo che svela e ovviamente queste questi due questi due come dire queste due intensità di luce possono essere in opposizione tra loro possono già essere conflittuali quindi già la disposizione della luce della circolazione della luce in un'immagine può già mettere in scena un conflitto sono contenta che mostriate sia che mostriate sia Susanna Erecchioni sia questo importantissimo schema di Fontanini che ci insegna questo cioè nell'immagine possiamo vedere molte cose ma l'immagine riesce anche a costruire molti luoghi di esitazione molti luoghi di inaccessibilità per esempio ho legato nel libro tutta questa questione dell'accessibilità dell'inaccessibilità e dell'ostruzione anche ai dispositivi di stoichita ai dispositivi metapittorici metavisivi di stoichita perché ovviamente prendiamo l'esempio delle porte e delle tende in un certo senso quando si è degli come dire degli osservatori naif delle immagini si vede un interno con una porta con una tenda più o meno tirata si dice ma cosa c'è in questa immagine in questa immagine non c'è niente cosa c'è da vedere e in questa immagine c'è da vedere che ci sono degli ostacoli alla visione che la tenda più o meno tirata permette di vedere alcune cose fino a un certo punto a una certa distanza che una porta semi chiusa fa capire che c'è al di là della porta un segreto qualcosa a cui noi non possiamo accedere eccetera eccetera quindi ovviamente questa modalizzazione questa modalizzazione dello spazio che voi avete mostrato là che appunto viene dal libro Lese Spazio Subjective di Fontanì io poi l'ho rimaneggiato molto utilizzando i dispositivi di Stoichita del libro magnifico che ho studiato all'università grazie a Fabri a Lucia Coraine e altri e che appunto ci parla di tutti questi di tutti questi dispositivi metavisivi che sono appunto sì la porta la finestra la nicchia il quadro del quadro eccetera eccetera perché sono dispositivi metavisivi perché sono dei dispositivi sempre di inquadramento perché anche la tenda e la porta sono comunque degli inquadramenti e questi dispositivi sono sempre meta perché gestiscono la potenza del nostro sguardo e tutta la raffinatezza e la finezza che ha l'immagine nel mostrarsi e nel ritrarsi rispetto a tutto quello che noi vorremmo sapere da lei e tutto quello che insomma che vorremmo quindi la negazione assolutamente innerva il libro anche anche dove non si tratta di negazione perché tutte le questioni che vengono da stoichita e che concernono l'inquadramento sono sono anche lì tematizzazioni del problema dell'enunciazione pardon della negazione volevo dire ancora qualcosa ma forse poi Gabriele si intromette non lo so no un'altra cosa tra le mie diciamo insoddisfazioni del passato scusatemi se riprendo ancora vecchie domande ma nello stesso tempo mi avvicino anche a delle cose dette da Bruno un'altra un'altra diciamo insoddisfazione era quella era quella del come trattiamo il medium in semiotica e quindi già in semiotica della fotografia avevo tentato di far dialogare Bart con Peirce con degli specialisti della fotografia con Flosh e con Fontanee per vedere come si potesse trovare un modo di lavorare sulla specificità mediatica che non fosse uno che non fosse un che non fosse che non portasse a una ontologizzazione degli strumenti tecnici e della genesi perché ovviamente quello che non quello che non può soddisfare nelle analisi diciamo generalistiche della fotografia è questa ontologizzazione della genesi che poi ci impedisce di vedere generi statuti la diversificazione insomma di tutti gli utilizzi della fotografia quindi diciamo che in questo libro è anche il luogo dove attraverso l'ultimo capitolo sul medium che è studiato attraverso il supporto l'apporto e i gesti di iscrizione è anche un modo diciamo di offrire alla semiotica un material tarna come lo si chiama oggi questo è molto interessante poi lascio la parola a Gabriele perché una delle parti più interessanti è nel libro è quando tu parli in qualche modo di questa interattanzialità come modalità di figurativizzazione del plastico per cui insomma un tentativo secondo me valido che può essere fatto è quello di cercare di capire nelle pennellate del dipinto quale pennellata veniva prima rispetto a un'altra in che modo la pennellata del background si miscola si relaziona con quella dell'avampiano e così via e tutta questa cosa in qualche modo è un'operazione di figurativizzazione del plastico interessante che risponde a un tentativo di narrativizzarlo quindi di creare quella temporalizzazione e spazializzazione che invece noi tendiamo altrimenti sul piano percettologico a non vedere tanto nelle immagini cioè mentre testi molto visibilmente temporali come la musica tu scrivi il film eccetera li esibiscono in maniera palese qui c'è bisogno di fare quell'operazione molto specifica che si confronta con il problema del substrato con il problema della sostanza dell'espressione tutta roba molto bella che a me ha colpito molto magari ti dico prendi questo mio commento mettilo in saccoccia e l'uniamo al commento di Gabriele alla domanda che fa Gabriele specifico solo che tutte le immagini che stiamo facendo girare sono immagini che sono prese dal tuo libro quindi che il pubblico sappia che sappia sabbia al mare che il pubblico sappia che quelle immagini derivano appunto dal libro prego Gabriele sì sì no vabbè avete già toccato tutta una serie di questioni super interessanti cioè noi lo diciamo sempre ma questa è davvero la volta in cui potremmo parlare di questo libro che appunto è 170 pagine di densità quasi da buco nero c'è ogni due righe c'è uno spunto per una cosa interessante che magari ti svolta un problema rilevante però appunto cerco di limitarmi di contingentarmi intanto saluto tutti quelli che ci stanno seguendo che sono un sacco di persone quindi grazie credo che possa essere carino ricordare Maria Giulia se è corretto che Enzo D'Armenio ha curato ha co-curato la tradizione italiana quindi lo salutiamo sì 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 assolutamente ha tradotto molto bene questo libro io volevo ringraziarlo volevo ringraziare anche non so se io non vedo chi c'è chi ci segue però volevo ringraziare anche molto Francesco Lamantia spero ci sia perché ha fatto una postfazione magnifica veramente da leggere studiare perché rispetto a quello che io ho detto del plastico lui andando verso Castoriadis verso Ingold e verso Einstein e un libro che si intitola Walt Disney sulla 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 deformazione e sul il plasmatico devo dire mi ha dato un sacco di idee per i prossimi libri tra l'altro lui calza cioè cade a fagiolo perché se non sbaglio è relativamente da poco uscito per quadlibet con un libro guarda caso sull'enunciazione quindi è proprio il caso di dire che tutto si tiene salutiamo Andrea Valle salutiamo Mirene salutiamo quelli che ci seguono sempre quindi grazie sapete che potete intervenire nelle solite modalità del commento con domande per Maria Giulia visto che secondo me la carne al fuoco è tantissima appunto adesso vedo i commenti li vedo ora i commenti perché mi sembrava che non li stessi ok scusa Gabri così c'è anche Francesco c'è anche Ciccio mangia pane insomma siamo la grande famiglia che siamo di solito vi vogliamo un sacco bene e per noi fare sta roba è la goduria più totale ecco allora comunque tornando al libro di Maria Giulia che è occasione per ulteriori godurie semiotiche dal mio punto di vista avete già citato due tre punti assolutamente focali cioè il discorso che dentro la teoria semiotica Maria Giulia tenta chiaramente una dinamizzazione totale una diciamo destaticizzazione di tutta una serie di apparati teorici che usiamo tantissimo e che fanno parte proprio diciamo anche del mainstream teorico per esempio quest'idea dell'aspettualità dell'immagine della temporalità dello spazio dell'immagine è super stuzzicante e sicuramente produrrà in futuro questa idea su cui magari visto che Bruno già ti ha stimolato poi come dire ti ridò la parola Maria Giulia e se vuoi elabori quanto vuoi cioè questa idea del material turn in qualche modo sviluppato anche in seno alla semiotica ma tra l'altro andando a fare le chiose diciamo le note a piedi pagina al computational turn che questo material turn mette tra parentesi per ovvi motivi perché per fare quello che fa a livello di analisi digitalizza tutto e quindi qua e chiudo con la mia ossessione non prima di dire che appunto il libro si chiude si chiude con Deleuze cioè le ultime tre righe sono delle conclusioni questa sorta di apertura a questa idea della lettura figurativa dell'enunciazione plastica che consente qua appunto cito te che citi Deleuze di esplorare le energie trattenute da ogni forma quindi l'idea della dinamizzazione della teoria semiotica mi sembra che in questo caso esploda ma quindi avendo già detto tante cose eterogenee se vuoi dici qualcosa sul material turn ma allo stesso tempo ti chiederei perché mi sembra una parte veramente centrale del libro di dirci in che modo riprendi chiosi e integri una delle come dire uno dei capisaldi della semiotica visiva della semiotica plastica cioè tutto il lavoro di Flosch perché quando io ho letto ovviamente tu citi tutti praticamente citi Turleman che era un sacco di tempo che non lo vedevo citato in testi di semiotica quindi ricostruisci il quadro lo integri perché tu proponi il plastico come euristica per un'analisi intertestuale che tra l'altro anche lì vai a dare una botta diciamo semiotica alla teoria di Manovic ma quindi scusate perché rischio di essere dispersivo mi rendo conto ma perché questo libro mi ha veramente thrilled diciamo che la questione la questione di Flosch a me è venuta subito in testa già leggendo il titolo del libro perché questa idea della pluralità dei linguaggi dell'immagine è molto forme dell'impronta cioè il fatto che come dici tu non è che perché la macchina fotografica fino alla svolta del digitale è un indice della luce sulla pellicola allora tutte le foto sono uguali sappiamo come la semiotica ci insegna rispetto a ogni tentativo di ontologizzazione che ci sono centomila estetiche diverse stili e Flosch lo mostra bene ma quindi ecco mi ricompongo e ti chiedo una domanda formulata come tale material turn da una parte che ritengo una cosa fondamentale sia lato enunciazione sia lato semiotica plastica perché chiaramente c'è dentro Fontaniglie c'è dentro Pierluigi Basso ma appunto in che modo tu porti avanti Flosch perché di fatto fai questo cioè tu traghetti Flosch verso l'esigenza di lavorare con i corpora ma tu vai in freestyle rispondimi come vuoi ecco freestyle allora e comincio con la questione del medium di nuovo il tempo della pennellata di cui ha parlato Bruno e quello di cui hai detto tu come porti avanti Flosch con la sostanza dell'espressione eccetera eccetera allora diciamo che avrei molte cose da dire spero di poter essere di fare un po' di un po' di luce in me stessa allora prima di tutto l'idea è di non pensare l'immagine come un testo ma come una scrittura cioè di riprendere di riprendere l'immagine non solo come risultato ma anche come processo di forze eh l'hai detto tu Gabriele di forze che si sono stabilizzate in delle forme qua riprendo chiaramente molti saperi che vengono da Deleuze certo sulle forze della pittura anche questo libro studiato sui banchi dell'università bolognese importantissima base del mio pensiero sull'immagine ma un po' lasciata forse lasciata un po' per tanti anni un po' in latenza quindi la questione delle forze senza dubbio eh l'idea appunto che le forme hanno stabilizzato le forze eh però con degli scarti con delle intensità diverse di stabilizzazione eh ci sono ancora delle forze che riemergono in un certo senso e allora per poter studiare questa questa lotta ancora una volta parliamo di lotta perché c'è molto di conflittuale nel libro eh informatori osservatori e conflitto tra di loro conflitto tra forze eh la negazione è un conflitto puro ovviamente perché si nasconde perché si si tenta di far sapere che c'è qualcosa di nascosto eccetera eccetera eh quindi come studiare le forze eh studiare le forze bisogna studiarle attraverso l'analisi della sostanza dell'espressione allora ehm la sostanza dell'espressione non è stata veramente e lo sappiamo tanto valorizzata e trattata per ragioni giustissime e e comprensibilissime negli anni ottanta perché io per esempio quando ho fatto la mia tesi sulla fotografia ho lavorato tanto su Flosh eccetera beh quando io ho letto quel libro capitale che tutti dovrebbero leggere forme dell'impronta mi sono comunque detta c'è qualcosa che manca perché tutto sommato le analisi che sono state fatte su quelle fotografie sarebbero state fatte se la fotografia fosse stata un dipinto cioè non c'era nessuna attenzione per la grana della forma eh per tutto il problema di come questa forma è stata costituita è stata costituita attraverso una pennellata è stata costituita attraverso un incontro tra la luce un otturatore più o meno lungamente aperto ehm che incontra una luce con quale intensità eccetera eccetera cioè tutto questo problema di supporto apporto e gesto di iscrizione è purtroppo non era presente nella semiottica visiva degli anni ottanta e quindi ehm Flush mi ha aiutato ad uscire eh dalla ehm dal dalla teorizzazione mainstream sulla fotografia che ontologizzava la genesi ha totalmente disontologizzato la genesi eh però a questo punto ci si è trovati ad avere delle difficoltà a riconoscere le specificità dei media le specificità mediatiche delle immagini purtroppo le immagini non sono solo forme ma anche processo di costituzione delle forme materialità eccetera eccetera quindi l'idea qui nel material Tarn è che l'immagine sia anche una scrittura e non solo una stabilizzazione di forme e e che sia anche un oggetto insomma e quindi e quindi questo un po' per per legare flush e legare la questione dell'immagine come scrittura sostanza l'espressione eccetera eccetera io devo dire non conosco né tutte le tecniche pittoriche né le tecniche fotografiche non sono veramente qualcuno che conosce che va veramente a approfondire le questioni delle tecniche però so quanto mi affascina la questione di di questa interattanzialità giustamente tra supporto apporto e gesti di iscrizione perché ovviamente anche nella questione dei gesti di iscrizione c'è tutto il problema insomma della 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 di come le di come le forme sono 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 prodotte e di come le forme anche emergono e e quindi insomma c'è tutto un lavoro su su quello che l'immagine dice della sua storia di produzione che non è possibile che non è possibile lasciare decote di lato sono anche contenta che nel libro in inglese ci sia tutta una parte nuova non so saranno 15 pagine su Fossillon Warburg eccetera perché là ho potuto veramente insistere sulla questione delle forze nell'immagine e devo dire che Fossillon è una lettura che avevo fatto quando veramente ero troppo giovane per capirne l'importanza oggi ovviamente Fossillon mi ha mi ha veramente aperto un mondo perché per esempio certo lui non parla di supporto apporto gesto di iscrizione comunque parla molto di tecnica e soprattutto dice qualcosa di molto molto importante che può interessare anche il problema del dinamismo dell'immagine cioè che ogni immagine è una stratificazione di tempi di temporalità diverse di epoche diverse di stili diversi cioè in questo senso vuol dire che un'immagine può essere in anticipo rispetto alla propria epoca in una sua zona e in ritardo in un'altra zona in un altro trattamento all'interno dell'immagine insomma quindi ecco questa stratificazione di diversi stili di diversi tempi è molto importante soprattutto se poi si vuole questo sarebbe uno dei miei progetti di ricerca futuri costruire una genealogia delle immagini che parta dalle conoscenze di Possion e Warburg e che possa approfittare di tutta l'analisi computazionale che si può fare oggi quindi che in un certo senso si risponda a questo progetto di genealogia delle immagini che non è semplicemente una storia lineare delle immagini perché appunto le immagini sono stratificate e quindi appartengono sempre a dei luoghi e degli stili che sono che sono imbricati insieme che a volte è difficile smerire demigri sì no tra l'altro c'è una finezza che va detta cioè interessante che Warburg nel tuo libro sia dopo Manovic cioè non sia la premessa alla visual data collection data visualization ma sia come dire quasi pensato anacronisticamente o anticonisticamente come conseguenza l'atlante nemosine questo è interessante tra l'altro perché Warburg può permettere Warburg e Fossillon possono permettere di fare le analisi computazionali a partire da un altro spirito prima di tutto attraverso Fossillon occuparsi della tecnica perché ovviamente le analisi computazionali di oggi non si occupano molto di tecnica cioè prendono l'immagine come se fossero tutte foto cioè sono voglio dire qualsiasi medium sia si sono tutte trattate come foto sono tutte trattate come immagini sono tutte digitalizzate quindi sono tutte sono tutte tutte si valgono diciamo e quindi problema della tecnica e poi problema della genealogia che c'è poco in Manovic c'è di più nel progetto replica che io cito in questo capitolo su Fossillon e Warburg però diciamo che ci sarebbe ancora un modo superiore un modo ancora più avanzato di 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 fare della genealogia delle immagini rispetto a quella che si fa in questo progetto replica che è l'idea di di fare una genealogia trans iconografica e quello che voleva fare anche Warburg cioè andare al di là delle iconografie e vedere come si possono costruire genealogie di ritmi in un certo senso e questo ovviamente se vogliamo costruire una genealogia di ritmi visivi è chiaro che ci dobbiamo molto appoggiare sia su Warburg che su Fossillon scusa nessuno sicurati sei qui per questo anzi no beh come dire intanto ci accorgiamo di come da una specie di dittatura del testo stia riprendendo invece il suo ruolo un dialogo fra testuale e mediale che è fondamentale proprio alla luce di una materialità che sta nel mezzo no come un po' come l'enunciazione e l'atto di mediazione fra la lang e la parola in qualche modo la materialità è l'atto di passaggio dal medium al testo io avrei altre cose sulla data visualization però infatti lo scrive anche Tiziana Migliore c'è un problema di sola forma dell'espressione e quindi niente siamo in linea vedo però che c'è una domanda di Claudio Paolucci che magari fare leggere a Gabriele perché io la vedo solo a metà dal software dico solo una cosa Gabriele mi sembra che noi possiamo usare questo episodio per costituire quando faremo i dvd di semi-boomer una specie di quadrilogia che fa che è Paolucci Manovic cometa Dondero mentre io te lo dicevo credo che Giulia si sia Maria Giulia si sia sloggata per un attimo quindi si è involontariamente sconnessa e noi la ripeschiamo la ripeschiamo tu intanto eccola scusatemi scusatemi non ti preoccupare ti spiego ho visto i commenti ma non voglio farmi troppo distrarre dai commenti quindi ho capito ho capito non ti preoccupare allora oggi inauguriamo una rubrica bellissima che si chiama Marino legge Paolucci a Dondero ti leggo la domanda che Claudio ci fa che secondo me è molto interessante perché entra nel vivo della tua questione semplificando semplificando troppo comunque antiglottocentrista per capirci però in qualche modo identifica il problema quindi una domanda su un aspetto che mi interessa molto dice Claudio Maria Giulia da sempre lavora molto sull'autonomia del linguaggio visivo rispetto agli altri linguaggi e sulla messa a punto di alcuni utensi di semiotici che siano specifici e non derivati sintetizzo un poco per motivi di tempo questo è preziosissimo quindi questo affrancamento dal verbale che sta tanto a cuore anche a Claudio è preziosissimo e ci smarca ad alcune importazioni frettolose di categorie semiotiche nate dal linguaggio verbale come ad esempio io qui ora nell'enunciazione guarda caso allo stesso tempo un punto centrale della semiotica come disciplina è la traducibilità delle categorie teoriche sviluppate perché non vogliamo tornare a una semiotica del canale cioè dice Claudio comunque c'è l'intersemioticità di fondo che deve garantire uno scambio tra le varie materie e quindi varie sostanze la domanda è quali sono i piani di commensurabilità degli oggetti teorici che metti appunto nel libro enunciazione a tanti narratività semantica generi e in quale stato ritroviamo tutti questi piani nel momento in cui sono stati fatti passare attraverso i linguaggi dell'immagine e non più attraverso il verbale cioè cosa resta di parafraso sintetizzo spero di non cannare però diciamo cosa resta del verbale che in qualche modo si presuppone non deve essere per forza il metalinguaggio ultimo alla benvenistola lingua fascista eccetera però probabilmente al fondo di quello che ci è arrivato dal verbale ci deve essere un livello di traducibilità di quello che abbiamo scoperto grazie al verbale anche nel visivo Sì grazie mille Claudio allora conosco conosco bene il tuo libro anche se la versione italiana non l'ho letta ma ho letto ho letto la traduzione francese e so e discutiamo su queste questioni allora la questione delle importazioni facili sono d'accordo con te anche se penso che per esempio l'io qui ora possa continuare a funzionare per esempio per tutte quelle immagini attraverso le quali poi si è cominciato veramente a lavorare sulle annunciazioni cioè i ritratti è chiaro che quando si tratta di mettere in scena la presenza o le assenze o le come le chiamo nel libro parcellizzazioni della presenza nascondimenti della presenza abbassamento di intensità della presenza eccetera eccetera forse questo sincretismo di io qui ora e tutti i suoi insomma tutte le sue più più basse intensità e frammentarietà possono ancora essere interessanti e quindi può esserci utile l'importazione dal verbale invece ovviamente quando si tratta di altre questioni dove non è più la presenza a essere in gioco io credo che come tu hai lavorato molto sulla protesi nel cinema nel video eccetera per me oggi quello che conta molto è per quanto riguarda lo studio dell'enunciazione nell'immagine è tentare di capire come questi tre attanti supporto apporto e gesto di iscrizione possano costituire l'emergenza delle forme insomma e quindi in un certo senso come queste forme possano emergere a partire da da questi gesti di incontro tra diversi tipi di materialità selezionati e preparati in modi particolari ogni volta particolari e attraverso una sintassi del gesto che li può legare l'enunciazione in questo libro in un certo senso è qualcosa che tiene insieme diversi linguaggi così come il meta perché ovviamente dall'enunciazione si arriva subito al meta ovviamente cioè si arriva subito al fatto che ogni testualità anche la più semplice anche la più impersonale diciamo così mette in scena mette in scena un simulacro di comunicazione un simulacro di di scambio eccetera e quindi e quindi sicuramente enunciazione e metavisivo sono sono le questioni che che sono più utili per per poter lavorare sulla traducibilità fra i linguaggi e nel metavisivo ovviamente perché ti ho parlato tanto di supporti apporti eccetera perché ovviamente una parte del metavisivo concerne quello che io ho chiamato nel libro metalinguaggio cioè tutto il problema della specificità della produzione mediatica perché come dicevo all'inizio ho distinto tra quattro tra quattro tipi di di metavisivo il metatestuale l'immagine che parla di se stessa il metalinguistico che è l'immagine che parla di come è stata prodotta e di tutta la specificità del suo mediatica diciamo quindi un'immagine pittorica che parla della pittura una fotografia che parla dei dispositivi fotografici e ho parlato anche di metadiscorso cioè delle immagini che discutono e mettono in causa il loro statuto statuto artistico statuto scientifico statuto pubblicitario eccetera eccetera e infine la metalingua sarebbe riprenderebbe ovviamente il problema di per esempio delle visualizzazioni di Manovic delle visualizzazioni di immagini di Manovic che mettono in scena in un certo senso il modo in cui percepiamo cioè il modo in cui possiamo distinguere immagini gruppi di immagini secondo le loro caratteristiche plastiche grazie no quest'ultima cosa magari mi titilla quindi andrei io intanto come vedi continuo a condividere immagini tue mentre mentre parlo guardate mi dispiace che mi dispiace che non sono riuscita mai perché sono sempre indietro nel mio pensiero rispetto a quello che voi mostrate a dire qualcosa sulle immagini che voi passate per esempio su Susanna e Vecchione avrei voluto beh torniamoci si torniamo si vabbè tanto tempo fa avrei voluto dire due parole semplicemente ma poi so che tu vuoi andare verso le visualizzazioni di immagini io vorrei andare lì più che altro però in realtà mi interessa anche se puoi parlare di quello abbiamo ancora un attimino di tempo per fare entrambe le cose allora io ti faccio una domanda sì sì è molto semplice la mia domanda proprio una domanda da persona semplice come sono io no cioè questa cosa della data visualization che accomuna diciamo per esempio Manovici il nostro comune amico Everardo Garcia Reyes eccetera fanno di queste cose a me ha sempre un pochino fatto tentennare perché capisco fino a un certo punto cosa vogliono fare ma poi ho il problema cioè mi pongo il problema di capisco e diciamo tu nel libro mi spieghi anche meglio che cosa vogliono fare ad esempio mi hai fatto ben capire una cosa che io non avevo capito cioè il modo in cui riescono diacronicamente a intercettare alcune specifiche semiosiche se vogliamo che altrimenti sarebbero perse cioè ci sarebbe della significazione che soltanto con la data visualization si può cogliere la mia domanda molto semplice era alla luce di tutto il percorso che tu fai finendo sostanzialmente con la data visualization cioè sei convinta fino in fondo di quello che dici cioè non voglio che la domanda sembri maliziosa ma in qualche modo sei convinta fino in fondo che una roba come quella che fa Manovic cioè mettere assieme 600.000 immagini tutte assieme abbia quel grado di significatività che noi con l'analisi ritroviamo oppure no forse la domanda è malposta non riesco nemmeno tanto a spiegarmi non so se si è vinto in qualche modo quello che voglio dire tu hai capito più o meno quello che voglio dire io penso di sì spero vai vediamo se l'hai capito allora prima di tutto tu dici quanto serve tutto questo tutta questa visualizzazione io penso che serva a diverse cose ok allora io ho distinto tra montaggi e diagrammi di immagine allora i montaggi diacroni diciamo immagini in diacronia per esempio i Times Magazine dal 1900 non so 43 fino al 2009 una cosa così e dall'altra parte i diagrammi di immagine allora i montaggi sono meno interessanti da un certo punto di vista perché seguono una disposizione per data e quindi potremmo dire meno interessanti di quelli che seguono una disposizione per descrittori visivi però anche i montaggi sono molto interessanti perché prima di tutto si possono scoprire dei pattern che se non si ha tutta la collezione davanti agli occhi non si potranno mai scoprire e per esempio Manovic e Douglas quando hanno lavorato su quando hanno lavorato sulle sulle copertine si sono accorti di molte cose interessanti per esempio quando esempio per esempio quando si si lascia la copertina diciamo ci si allontana dal bianco della copertina si comincia tutto un periodo dove il bianco lascia spazio al rosso e quindi è tutta un'altra estetica eccetera eccetera non più minimalista ma eccetera eccetera può servire per reperire dei pattern sì ma può servire anche per in un certo senso capire che ogni designer ogni artista che prendeva la mano cioè che veniva incaricato di una nuova tranche di copertine era in un certo senso miope cioè aveva si confrontava con quello che era stato appena prodotto forse con le prime produzioni di copertine ma in un certo senso non poteva avere nello sguardo non poteva avere né uno sguardo retrospettivo globale né avere lo sguardo sul futuro ovviamente su quello che lui avrebbe prodotto e su quello che avrebbero prodotto quelli dopo di lui che avessero dovuto costruire nuove copertine quindi in un certo senso ci troviamo che tutti quelli che hanno prodotto le copertine erano forzatamente miopi e oggi noi possiamo vedere uno sviluppo che è sovra individuale sovra che passa i periodi che passa le diverse intenzioni degli artisti le diverse stili decisioni in comando di chi di chi di chi dei pubblicitari che chiedevano questo e quell'altro ai loro designer e possiamo avere uno sguardo d'insieme e reperire per esempio dei momenti che si ripetono per esempio negli anni 60 come negli anni 80 invento non si tratta di questo per quanto riguarda invece i diagrammi d'immagine sono molto più interessanti perché abbiamo una collezione perché comunque per lo più sono collezioni che sono analizzate nelle loro similarità ovviamente Manovic usa diversi descrittori visivi adesso noi conosciamo le cose più semplici cioè non so Mondrian e Mondrian e Rochko rispetto alla saturazione e alla luminosità ecco Manovic e Douglas e gli altri a California a San Diego quando lavoravano su queste cose incrociavano le analisi e quindi potevano con questo incrocio di analisi ognuna fatta attraverso parametri diversi potevano riuscire a capire come ogni immagine era in relazione secondo i diversi parametri con tutte altre immagini e con i diversi gruppi nel senso che un'immagine può distaccarsi completamente da un gruppo da una zona diciamo per quanto riguarda il parametro luminosità e saturazione del colore ma ne può essere invece molto vicine molto simile per quanto riguarda l'utilizzazione degli angoli ottusi o di geometrie eccetera eccetera quindi questo è un modo di fare vivere l'immagine della sua collezione e di renderla mobile all'interno di questa collezione cioè l'immagine non ha mai un posto fisso rispetto a tutte le altre immagini più o meno simili quindi in questo senso questo dinamismo di ogni immagine che dipende dalla sua collezione e la collezione diventa in un certo senso la lang perché sono quei parametri lì che sono pertinenti nello studio dell'immagine ma non dell'immagine in astratto dell'immagine all'interno della sua collezione quindi con quei parametri utili per capire la collezione e il ruolo di ogni immagine all'interno di una collezione quindi non lo so se mi sono spiegata bene ma insomma meglio di me grazie no no molto molto chiaro ti ringrazio era molto naiffa la mia domanda uno dei grandi guadagni con Manovic è che cosa ci fa l'immagine in mezzo alle altre immagini non mi sembra poco non mi sembra poco perché è facile un po' io trovo che la gente si diverte un po' a scherzare con Manovic poi lui è una persona anche molto aperta l'avete ben visto eccetera insomma criticarlo facilmente eccetera eccetera però bisogna dire che che questa che queste immagini che si differenziano rispetto ai parametri attraverso le quali le studiamo e cambiano posizione rispetto a tutti i gruppi che le intorniano all'interno di una collezione non mi sembra molto poco anche perché poi la collezione diventa un luogo di come dire sì io l'ho chiamato l'ho chiamato ambiente di virtualità se non mi esaglio e non so in inglese come fosse reso era qualcosa virtuale quindi bisogna considerare appunto tutta questa collezione come un insieme di cotesti che possono permetterci di capire come allora è chiaro che Manovic si fa delle analisi diacroniche ma non di genealogia e quindi le parti finali dopo Manovic mirerebbero appunto a costruire quello che dicevo prima una genealogia di ritmi dell'immagine cioè addirittura che staccarsi dalle iconografie poi ovviamente se si studiano i ritmi delle immagini poi si arriva anche a vedere che poi molto spesso il ritmo coincide con una iconografia ovviamente ma se si lavora per forza piuttosto che per iconografie è chiaro che si possono scoprire delle nuove fratellanze sorellanze tra immagini guarda Maria Giulia io mi ricollego esattamente a quest'ultimo passaggio visto che ti abbiamo già spremuta praticamente con un tubetto di dentifricio per un'ora è rotta quindi ci avviamo verso io direi come dire la conclusione tra l'altro abbiamo avuto un sacco di interventi e questo ci fa super contenti intanto Bruno sta domanda gliela potei fare a Manovic scusami è una domanda che faccio a tutti quelli che si occupano di data visualization ma devo dire che con Maria Giulia inizio anche io a convincermi in maniera abbastanza ferma perdonatemi ma avevo proprio bisogno di grasp visto che è una parola che c'è adesso nel libro la questione ma la sto capendo e ti ringrazio Maria Giulia questo libro è molto utile per quello abbiamo domande che si accumulano intanto io ti leggerei volevo solo sapere una cosa io poi questa chat qui la posso guardare dopo o muore la bruciamo a rovo dopo resta congelata poi con il video che resta su facebook quindi tranquilla puoi andare a recuperare tutto io ti leggo in maniera liofilizzata due stimoli molto interessanti di Tiziana Migliore e di Annalisa Cervone che se non sbaglio ha recensito il libro per grazie infinite anche Annalisa io dico la verità dovrei fare tanti di quei ringraziamenti che mi ero un po' segnata le persone Enzo per primo poi Alessandro Sarti poi Salvatore Tedesco che ha preso nella sua collezione ma anche ovviamente anche Milad Duailly che mi ha fatto molta confianza qui per il linguaggio dell'arte insomma e quelli che faranno poi il contrandu Cristina Voto già mi ha detto e tutti quelli che l'hanno già fatto in francese Anne Beillard Jean-François Bordron Eleni Muratidou insomma ha tanti amici e colleghi molto cari e quindi insomma sono stata molto sostenuta con questo libro sia dai miei primi lettori sia sia da Jean Portela che è stato quello che l'ha voluto perché mi diceva ma tu vieni qui a insegnare semiotica visiva in Brasile ma noi in Brasile non siamo pronti per la semiotica visiva per l'enunciazione visiva eccetera eccetera e quindi mi ha detto scrivi il libro allora cara perdonami ti liofilizzo due stimoli e quindi sono tre sì tre vabbè ok ti chiedo di essere altrettanto sintetica se riesci scusaci ma è per non scontentare il nostro amatissimo pubblico allora Tiziana chiede nel momento in cui analizzi la letteratura hai gli scartafacci l'urtesto le bozze i codici per fare la collazio ma nel quadro che poi si dà come testualità unica come fai chiede lei a scientificamente provare l'evoluzione temporale di forme e forze questa è la prima domanda quindi il dipinto nella sua sincronicità rispetto a questo scusami puoi ripetere allora è una testualità unica come fai a ricostruire la genealogia sì ok poi Annalisa chiede nel passaggio da analogico a digitale cosa succede a questa famosa sostanza dell'espressione cioè se tu dovessi sintetizzare come dire in un giudizio semiotico qual è il destino della sostanza dell'espressione dall'analogico al digitale quindi domanda complicatissima in realtà secondo me e poi sì Annalisa mi vuole uccidere ok ho visto una reazione tipo spettrale esatto si lancia nella finestra nelle vie di Parigi e poi Valeria Burgio però la devo leggere live con voi perché non l'avevo letta quindi anche lei dice butto il domandone come possiamo lavorare in termini di enunciazione quindi riprendendo quello che dici tu supporto apporto e gesto su immagini prodotte attraverso SW che non so che vuol dire software ah software scusate sì 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 perfetto tipo illustrator ok allora ragazzi cercherò veramente di essere di essere molto rapida allora la prima domanda di Tiziana che ringrazio allora certo bisogna tentare di lavorare sia sugli schizzi su tutte le prove non so neanche come si dice in italiano ma penso che si dica schizzi e schiss eh di tutti di tutti di tutti i tentativi per esempio vi faccio un esempio io mostro sempre i miei studenti è una cosa che non ho trattato nel libro ma c'è stata una mostra molto importante nel 2000 penso 13 su Matisse copie e rifacimenti una cosa del genere si intitolava e mostrava per esempio per ogni quadro che conosciamo tutti quelli che sono state prove studi cose più o meno conosciute cose più o meno nascoste schizzi che poi sono diventate opere altre cose che sono state ritirate eccetera eccetera questo è un aiuto importantissimo e come ho scritto nel libro ci sono anche molti che tentano magari non di costruire una genealogia ma di fare in modo che la la computational analysis prenda in conto tutta la questione della del 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 ripentimento del pentimento del pentimento in pittura per esempio il fatto che per esempio con delle analisi a raggi X eccetera eccetera si possono vedere come è stato costruito ovviamente il quadro cosa è stato tolto cosa è stato aggiunto eccetera eccetera quindi tutti i ripensamenti ma per la genealogia è anche importante ovviamente poi prendere in considerazione le opere finali e vedere come come sono state trasformate prendiamo un esempio banale la Venus di la Venere allo specchio di Velázquez io l'ho presa in considerazione qui perché è stata rifatta in fotografia eccetera ma è stata rifatta in tutti i secoli e attraverso tutti tutti i media c'è molto di Velázquez nella fotografia di moda eccetera eccetera insomma non parliamo di di come è stato ripreso Picasso eccetera eccetera quindi diciamo da una parte schizzi dall'altra parte remake comunque su questo Fossillon è molto utile anche trovo e bisogna riscoprirlo tutto tutta questa cosa degli schizzi allora per quanto riguarda passo un secondo a Valeria Burgio che non vedo da tantissimo tempo saluto con piacere allora c'è una parte sulla questione di supporto apporto e gesto di iscrizione anche per i software molto una parte rapida una parte che comunque mi è stata ispirata anche da Fontanì e da un lavoro che ho fatto con Ederardo che si tratterebbe insomma di si tratterebbe insomma di di trovare la gestualità ovviamente nel lavoro di come si dice di codificazione dell'immagine ovviamente è un lavoro che non è un lavoro di gesto senso motorio ma che è un altro tipo di gesto ovviamente e quindi si tratterebbe della non so neanche come si dice codificazione programmazione insomma che permetterebbe di costruire forme quindi ovviamente anche lì traduzione tra forme e comandi se li vogliamo chiamare così e poi c'è tutta la questione che è ancora un modo di rilavorare e di precisare il concetto di supporto Fontanillo ha distinto in supporto materiale e supporto formale e questa distinzione la si può usare anche per per il modo in cui si costruiscono le immagini digitali il supporto formale avrebbe a che fare con l'organizzazione dello spazio prendi l'idea di una griglia all'interno della quale costruire un'immagine e insomma diciamo che diciamo che c'è maniera di ricostruire una gestione di supporto apporto anche per quanto riguarda le immagini digitali l'apporto sarebbe la codificazione il supporto sarebbe materiale e formale materiale ovviamente la materialità elettronica e il supporto formale sarebbe questa griglia che tu decidi che sia in un certo senso la cornice di quello che tu vuoi produrre e l'organizzazione interna e poi ovviamente c'è tutta la questione di come dinamizzare insomma questo spazio attraverso il gesto di iscrizione comunque queste cose sono state descritte abbiamo tentato di descriverle io e Everardo in un articolo di cui una parte è finita effettivamente nel libro e quindi per delle questioni più tecniche ti rinvio a questo articolo che ha la base in francese però è stato anche in parte tradotto in questo libro allora invece per quanto riguarda analogico digitale mi puoi ripetere la domanda precisa di Annalisa perché io non guardo perché se no poi mi distrago allora sulla questione della materialità era giusto lei chiede alla luce della valorizzazione della sostanza dell'espressione sul piano delle forme dell'espressione fotografica in che modo possiamo concettualizzare il passaggio dall'analogico al digitale in termini di continuità o discontinuità aggiunge sì ma insomma è una domanda sì difficile anche se la si può in un certo senso forse lavorare sempre con con la questione dei supporti e degli apporti ovviamente in fotografia analogica è molto interessante cercare di tradurre l'idea di supporto apporto e gesto di iscrizione perché non è difficile solo per i software è difficile già anche per la fotografia di lavorare con questi tre con questi tre concetti perché con la fotografia abbiamo prima di tutto due stadi in quella digitale due fasi come direbbe Goodman e già un lavoro su supporto apporto e gesto di iscrizione nel lato della presa perché nel lato della presa ovviamente c'è un apporto che è la luce in confronto a oggetti che fanno da ostacolo rispetto a un supporto carta che è più o meno sensibile assorbente disponibile ad accettare questi conflitti tra luce e oggetti che si sovrappongono tra la luce e l'otturatore insomma le cose sono complicate comunque diciamo che si possono fare delle analisi ovviamente molto fini che non ho fatto sulla questione di supporto apporto e gesto di iscrizione nella fotografia analogica perché il gesto di iscrizione avrebbe a che fare ovviamente con l'apertura dell'otturatore eccetera eccetera con il movimento anche eventuale dell'apparato fotografico eccetera per il digitale in un certo senso è tutto molto più schiacciato è più difficile distinguere quale operazione è supporto quale operazione è apporto e che ritmi di iscrizione ci sono all'interno di questi possono reperire all'interno di queste forme quindi per adesso ti rispondo così ma tanto siamo amiche analisa io e quindi ci risentiremo ci vediamo ci vediamo fuori come si direbbero due bruti dentro un locale quando si stanno per picchiare allora ti aspetto fuori quindi analisa maria giulia ti aspetta fuori direi che possiamo insomma chiudere questo episodio dal momento che ti abbiamo veramente assai torturata grazie grazie maria giulia dondero ricordiamo che il libro di cui abbiamo parlato sinora è questo che trovate all'incirca in tutte le lingue del mondo non tutte ma quasi inglese francese italiano maria giulia dondero ha portato in semi boomer un po' di grazia se voi analizzate l'immagine di semi boomer verticalmente vedrete sopra la bestialità ferale e invece in questa misenabin nel suo riquadro invece una soave angelica grazia di cui la ringraziamo moltissimo gabrile settimana prossima carlo scolari e paolo bertetti ci parlano di transmedia archeologi maria giulia sempre invitatissima a seguirci naturalmente noi ci sentiamo per le nostre cose non ho altro da dirvi grazie ancora grazie gabrile grazie maria giulia io adesso chiudo la live ma se tu vuoi restare salutarci fuori dalla live grazie a tutti tantissimo anche al pubblico mille grazie guarderò bene i commenti e grazie a voi che siete sempre grazie fondamentali bene sei troppo gentile ed è una delle tue non poche qualità alla prossima settimana ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti